Bentornati cari ascoltatori a Radio Puggino Nera, il podcast che esplora in profondità le notizie più intricanti e controverse del momento. Oggi dedicheremo in questo episodio qualche minuto ad un argomento di cui abbiamo parlato a lungo e molto spesso, ma vi forniamo anche gli ultimi aggiornamenti sulle apparizioni della Madonna di Trevignano e la figura della veggente Gisella Cardia. In questo episodio esamineremo la vicenda da un punto di vista come sempre razionale, logico, scientifico, aggiornandovi sulle ultime notizie. Dunque restate con noi per un'analisi più dettagliata ed approfondita possibile del contesto che stiamo vivendo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, su Gisella Cardia e la Madonna di Trevignano. Per chi non fosse familiare con la storia, Gisella Cardia, nata Maria Giuseppa Scarpulla, lo sottolino perché molti di voi poi nei commenti mi fanno sottolineare che non ricordiamo abbastanza il suo vero nome, è una veggente che afferma di ricevere messaggi dalla Madonna nella località di Trevignano Romano, un pittoresco comune sulle rive del lago di Bracciano, nel Lazio. Queste apparizioni iniziate, sembra nel 2016, hanno attirato l'attenzione di numerosi fedeli, generando una devozione significativa intorno al sito delle apparizioni. Tuttavia le affermazioni di Gisella Cardia sono state accompagnate da controversie e interrogativi, soprattutto a causa della mancanza di riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa Cattolica, anzi di disconoscimento ufficiale. Recentemente il sito dove i seguaci di Gisella Cardia si riuniscono per pregare è stato oggetto di un'ordinanza da parte del comune di Trevignano Romano e questa ordinanza ha ordinato la rimozione di vari manufatti e strutture abusive, tra cui due croci in legno alte due metri, una delle quali con il Cristo, tredici statuine alte sessanta centimetri, raffigurante la passione di Nostro Signore, dunque la passione è la via Crucis, due inginocchiatoi e un altare, tutto di marmo, undici lampioncini a pannelli fotovoltaici, una capanna in legno contenente materiale religioso, supporti per ombrelloni, una cisterna per la raccolta di acqua, sedie in plastica e materiale vario, coperto da un telo verde. L'ordinanza, firmata dal responsabile dell'ufficio pianificazione e gestione del territorio, afferma che queste strutture sono abusive, poiché sprovviste di qualsiasi permesso edilizio e autorizzazione ambientale e paesaggistica, essendo la zona soggetta a vincoli ambientali e destinata esclusivamente, in teoria, per l'uso rurale, dunque per la coltivazione, la piantagione. L'associazione La Madonna di Trevignano ETS, che gestisce invece questo luogo, ha 90 giorni per rimuovere le strutture. Pena, una sanzione amministrativa e l'acquisizione del campo delle rose da parte del comune di Trevignano Romano. L'avvocato Solange Marchignoli, l'avvocato rappresentante di Gisella Cardia, ha dichiarato che questo decreto è solo l'ultima di una serie di richieste da parte del comune di Trevignano. In passato il campo era stato infatti sequestrato, ma poi dissequestrato dalla procura, che non si è trovata d'accordo con il comune. Ora i legali hanno presentato un ricorso al Tar contro quest'ultima ordinanza. Niente di inedito, dice Solange Marchignoli. Questo decreto è l'ennesima richiesta da parte del comune. Era già accaduto con il sequestro, poi respinto dalla procura. Il campo è stato dissequestrato. I legali, in risposta a quest'ultimo decreto, hanno già presentato ricorso al Tar. Agiremo secondo quanto la legge ci permette, dice l'avvocato di Gisella Cardia. Il comune sostiene che l'area utilizzata per scopi di culto, con un cambio d'uso non autorizzato, reso possibile proprio dai vari oggetti e statue collocate all'interno del terreno. Questo ha comportato una variazione dei carichi urbanistici per l'affluenza generalizzata e periodica di numerose persone per motivi di culto, trasformando una zona agricola in un'area di ritrovo e di culto. L'insieme sistematico delle installazioni e delle opere realizzate per la celebrazione di pratiche di culto configurano l'incremento del carico urbanistico dell'area, determinandone una modifica di destinazione ed uso non autorizzata da zona agricola ad area di ritrovo e di culto. Questo dice l'ordinanza del comune. Per comprendere meglio la vicenda, è utile analizzare gli eventi da un punto di vista razionale e scientifico. Le apparizioni mariane, come quelle di Trevignano, sono spesso soggette a scrutinio scientifico e teologico. Molti esperti ritengono che fenomeni di questo tipo possano avere spiegazioni psicologiche o sociologiche. Le visioni e le apparizioni possono essere spiegate attraverso fenomeni psicologici come allucinazioni visive e uditive oppure semplicemente come delle megatruffe, delle grandissime bugie inventate da alcune persone. Queste esperienze possono essere influenzate da fattori emotivi, culturali e religiosi. Le persone che credono fortemente nella possibilità di apparizioni mariane sono più propense a interpretare eventi ordinari come soprannaturali soprattutto se credono già in altri tipi di manifestazioni come Meggiugori e soprattutto Meggiugori ed altre apparizioni. Fino ad oggi possiamo dire che sono tutte bugie, una grandissima truffa non solo perché lo dice la Chiesa Cattolica che alla fine se lo dice la Chiesa Cattolica è anche abbastanza relativo ma possiamo dirlo perché non esistono prove scientifiche concrete che confermino la realtà delle apparizioni di Trevignano a meno che Gisella Cardia non dimostri il contrario. Gli studi condotti sui fenomeni simili in passato hanno spesso rivelato che le apparizioni possono essere attribuite a cause naturali o psicologiche piuttosto che a interventi divini oppure a delle truffe. Molti veggenti sono stati arrestati e hanno terminato la propria vita in carcere. Dal punto di vista teologico la Chiesa Cattolica adotta un approccio prudente e rigoroso nella valutazione delle apparizioni. La stessa Chiesa che poi non riesce a dimostrare nemmeno una sola delle cose che afferma da secoli almeno a dimostrarla a livello scientifico. Tutto è basato anche lì sulla fede cieca così come per quanto riguarda Gisella Cardia. Non c'è molta differenza devo dire se non secoli che sono secoli in cui la Chiesa porta avanti certi discorsi mentre Gisella Cardia lo fa soltanto da pochi anni da decenni piuttosto che da millenni o secoli. Le recenti direttive però del Vaticano che riservano al Papa l'autorità di dichiarare la soprannaturalità di un evento riflettono questa cautela. La Chiesa riconosce che la fede non deve dipendere esclusivamente da apparizioni o fenomeni straordinari ma deve basarsi su principi teologici solidi. Le apparizioni di Trevignano la figura di Gisella Cardia hanno avuto un impatto significativo sulla comunità locale e sui fedeli che visitano il sito. Questi eventi hanno sollevato discussioni sulla fede, la credulità e l'integrità delle figure religiose. Le stesse discussioni e argomenti che poi rilevo nei commenti del nostro podcast. La trasformazione del sito in un luogo di culto ha tirato un gran numero di pellegrini creando sia opportunità economiche che tensioni sociali. Mentre alcuni residenti vedono le apparizioni come una benedizione ma pochissimi ormai. Abbiamo visto che c'erano davvero pochissime persone nell'ultimo raduno nonostante le jippe e i bodyguard di Gisella Cardia non c'era praticamente quasi nessuno che se l'è filata ultimamente e molti sono preoccupati per l'afflusso però continuo e che continua di persone via al campo di Trevignano e le implicazioni urbanistiche e ambientali. I media hanno giocato un ruolo cruciale nel diffondere la storia di Gisella Cardia altrimenti nemmeno la Chiesa si sarebbe espressa come non lo ha fatto per tanti altri veggenti di cui vi stiamo parlando e di cui vi parleremo ancora attivi e attivi da decenni molto alcuni da molto più tempo di Gisella Cardia programmi televisivi articoli di giornale e discussioni online hanno amplificato la notorietà però di di Gisella Cardia della veggente infatti alcuni provano un attimo ad avere un po' di notorietà anche loro come ha fatto per esempio Marco Ferrari il veggente di Paratico affermando che Gisella Cardia che la Madonna gli ha detto che Gisella Cardia non ha alcuna apparizione cioè che è tutto falso e dunque questa notorietà di Gisella Cardia si è amplificata influenzando l'opinione pubblica e la percezione del fenomeno è importante ricordare che i media possono sia informare che distorcere i fatti così come anche noi ognuno ragioni con la propria testa la critica razionale deve sempre considerare la fonte delle informazioni Gisella Cardia in un messaggio diffuso il 13 maggio 2024 ha ribadito la sua posizione contro il Magisterio della Chiesa rivendicando un culto che ha palesato come autentico tra note accese di Livore e di Fidenza la veggente di Trevignano chiarisce il suo obiettivo distogliere i fedeli dalla pratica corretta del cattolicesimo in un messaggio di forte impatto Gisella Cardia ha sostenuto che i sacerdoti e i vescovi stessero calpestando con offese ed eresie il corpo e il sangue del mio dilettissimo figlio queste le parole che hanno scatenato ulteriore controversia evidenziando il divario tra la visione di Gisella Cardia e quella del clero cattolico ma poi ne abbiamo parlato a lungo in ogni nostro episodio in ogni nostro approfondimento su Gisella Cardia gli ultimi fatti andate a rivedere a riascoltare anche gli episodi recenti le dichiarazioni di Gisella Cardia non solo mettono in discussione l'autorità della chiesa ma sollevano anche interrogativi sulla natura e l'origine delle sue visioni che anche noi naturalmente qui a Radio Puginioner crediamo assolutamente false la posizione della veggente che critica apertamente il clero potrebbe essere vista anche come una forma di eresia rendendo ancora più complesso il compito della chiesa di valutare cosa fare se scomunicarla o no Paola Felli ex portavoce dell'associazione La Madonna di Trevignano ha condiviso la sua esperienza personale rivelando di aver ricevuto minacce anche in un'intervista e in molte interviste nei giorni e nei mesi passati Paola Felli ha mostrato in diretta televisiva e ha dichiarato di aver ricevuto molteplici minacce tra cui un proiettile ricevuto per posta come segno intimidatorio un giorno ho trovato un proiettile con sopra il mio nome e mi hanno detto ecco a te Paola in seguito il proiettile è stato sequestrato dalle forze dell'ordine le dichiarazioni di Paola Felli mettono in luce il clima di tensione che circonda il caso di Trevignano e le minacce ricevute da Paola Felli insieme alla pressione mediatica e legale creano un ambiente difficile per chiunque sia coinvolto direttamente in questa vicenda la vicenda di Gisella Cardia è ora anche al centro di una complessa battaglia legale l'ultima ordinanza dunque del comune di Trevignano romano aggiunge ulteriore pressione sull'associazione la Madonna di Trevignano ETS che ora deve affrontare la rimozione dei manufatti entro 90 giorni da questa dichiarazione da questa ordinanza la chiesa cattolica nel frattempo continua con il suo silenzio mentre le apparizioni di Trevignano presunte non hanno ancora ricevuto non sono ancora terminate continuano come abbiamo visto e vi abbiamo raccontato e Gisella Cardia continua sempre più imperterrita sempre più spavalda diciamo con la faccia davvero con la faccia tosta a dichiarare di ricevere ancora apparizioni e messaggi dalla Madonna la chiesa deve affrontare la difficile sfida di gestire la fede dei fedeli cattolici senza compromettere la propria autorità e dottrina il ricorso al Tar presentato dai legali di Gisella Cardia rappresenta l'ultimo tentativo di resistere alle pressioni del Comune la decisione del Tar sarà cruciale per determinare dunque il futuro del sito di culto di Trevignano Romano la vicenda di Gisella Cardia e della Madonna di Trevignano dunque continua ad evolversi sollevando domande importanti sulla fede la veridicità e l'integrità le recenti azioni del Comune di Trevignano Romano aggiungono un ulteriore livello di complessità a questa storia già intricata mentre attendiamo gli esiti dei ricorsi legali e delle decisioni delle autorità ecclesiastiche è fondamentale mantenere un approccio critico e basato sui fatti grazie per averci ascoltato in questo episodio di Radio Pugino NER speriamo che questa analisi vi abbia fornito un'ulteriore comprensione più chiara e profondita degli eventi a Trevignano Romano continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e per altre storie interessanti e se avete domande e commenti volete condividere la vostra opinione non esistate a contattarci a commentare il nostro podcast alla prossima puntata ricordate le notizie sono il nostro pane quotidiano noi siamo qui per per raccontarvi in tempo reale tutto ciò che possiamo e anche per approfondire alcuni argomenti e suscitare molto spesso con alcuni episodi come questo le vostre reazioni poter avviare un dibattito nei commenti su questi temi che ci stanno molto a cuore grazie per averci seguito vi invito ancora ad ascoltarci al prossimo episodio di Radio Puggino Nea